buona giornata amici da massimo foghetti pronti alla rassegna stampa del giorno su fano tv leggeremo come sempre il resto del carlino e il corrido adriatico sulle pagine locali ma partiamo subito dal santo del giorno e vediamo che oggi si festeggia sant'anacleto papa nacque ad atene era un greco ma fu presto chiamato a roma dove divenne sacerdote e alla morte di san clemente il papa che governava la chiesa allora fu chiamato a succedergli nel soglio pontificio era l'anno 113 cadde martire sotto l'imperatore traiano e il suo corpo fu sepolto in vaticano sant'anacleto papa uno dei primi papi della storia della chiesa e veniamo alle previsioni del tempo vediamo come il tempo oggi si rasserena e il cielo stamattina è luminoso è celeste una bellissima alba abbiamo visto quindi le nubi che hanno un po rovinato il weekend del 25 aprile si stanno diradando cieli sereni o poco nuvolosi ma nel pomeriggio ci saranno possibili piovaschi specialmente sui crinali verso urbino le temperature massime arrivano fino a 20 22 gradi e i venti sulle coste spireranno da una direzione da sud est mentre all'interno da una direzione da parte di ovest le temperature sono in calo le massime 17 gradi ma arriveranno anche a 20 a 22 insomma quando è nel centro della giornata mentre le minime si attesteranno sui 12 gradi apriamo il giornale oggi a partire dal resto del carlino e vediamo una notizia interessante comprato lo zuccherificio arriva amazon punto interrogativo ebbene il punto interrogativo riguarda l'arrivo appunto della multinazionale ma quello che è certo come asserisce il resto del carlino questa mattina è che due imprenditori fanesi molto noti avrebbero comprato appunto l'area dell'ex zuccherificio un'area che rimane in disuso in digrado da ormai decenni si tratta di paolo andreani e di giancarlo paci che hanno acquistato attraverso la loro società tutta l'area dell'ex zuccherificio in totale sono 120 mila metri quadrati coperti con prefabbricati è il famoso bosco di cemento che si vede lasciando la città andando in direzione di marotta poco dopo ponte metauro una operazione dice il carlino da 6 7 milioni di euro e prima di chiudere i contratti con la società che aveva rilevato i crediti del fallimento di madonna ponte i due industriali si sono interfacciati con ovviamente l'amministrazione comunale con il sindaco massimo seri che avrebbe benedetto l'operazione lasciando porte aperte alle proposte che poi pioveranno sul tavolo del comune ancora non si sa cose due imprenditori intendono farci di questa grande area che ha suscitato un dibattito molti dibattiti nel corso degli anni in città molti progetti ci sono succeduti tra le ipotesi comunque vediamo che il giornale elenca una possibilità di realizzare la celebre idrogen valley girano finanziamenti statali per questo settore quindi potrebbe anche essere una zona che si qualifica per la ricerca in questo settore ma comunque anche un'area eventualmente riservata per la logistica ed anche la possibilità che appunto un piccolo hub di amazon possa trovare un posto proprio nell'area dell'ex zuccherificio l'importante comunque è che qualcosa si sia mosso intorno a questa area che sembrava dimenticata che sembrava veramente appartata mentre i rovi, l'erbacce, il degrado avanzavano e coprivano tutta un'area molto molto grande nei pressi della zona industriale di madonna ponte giriamo la pagina e troviamo subito le manifestazioni della liberazione che si sono svolte un po' in tutti i centri della nostra provincia ma anche ovviamente a Fano liberazione nel segno dei bambini intitola il resto del carino perché ieri nel corteo che ha percorso la città depositando corone di alloro nei punti più significativi dedicati ai morti, ai caduti in guerra, alla resistenza, alla liberazione ebbene c'erano anche dei bambini, in modo particolare si rileva la presenza del figlio dell'ex onorevole Lara Ricciatti comunque ora è sempre resistenza, vediamo appunto un striscione dedicato da Lampi a questo tema c'è stato anche un momento di contestazione, un gruppo di pacifisti hanno inneggiato contro tutte le guerre sia quelle di difesa che quelle di attacco, accendendo anche dei fumogini e poi arrestandosi nei pressi del monumento alla resistenza nei pressi della Rocca Malatestiana rifiutandosi di proseguire oltre verso il monumento di Viale Bozzi e poi vediamo un articolo di cronaca a fondo pagina del resto del carino cerca vendetta con il coltello, è stato arrestato, si tratta di un muratore sardo di 60 anni di pergola che dopo essere stato malmenato da un gruppo di giovani albanesi il mattino dopo e se l'è cavata con le ossa rotte, tant'è che ha avuto anche ricorrere alle cure dell'ospedale aveva addirittura delle costole che erano state rotte proprio dalle botte ricevute il mattino dopo ci ha ripensato, ha preso un bel coltellaccio a serramanico e ha girato per la città con l'intento di cercare i suoi aggressori appunto di vendicarsi è stato individuato da uno di questi i quali prudentemente ha chiamato la polizia i quali hanno fermato l'uomo, ha protestato e quindi è stato denunciato per vediamo un attimo, è stato denunciato appunto per resistenza pubblico ufficiale il processo è stato fissato per il 6 maggio quindi l'aggredito ha fatto poi le spese in quanto è stato considerato lui stesso un potenziale aggressore si rinnova la devozione alla Madonna della Colonna vediamo questo articolo di Spalla finalmente si rinnova la devozione alla Madonna della Colonna dopo gli anni in cui il Covid ha bloccato la tradizionale sentita festa che si celebra nel santuario di Tre Ponti quindi la Madonna della Colonna costituisce una devozione molto molto sentita dai fanesi un tempo il quadro che ritrae la Madonna era situato in una chiesa all'interno dell'aeroporto chiesa che poi è stata demolita il quadro trasferito nel nuovo santuario di Tre Ponti e qui c'è tutta una storia dietro questa devozione questo quadro insomma che rileva l'interesse appunto proprio la devozione specialmente degli abitanti di Sant'Orso di Tre Ponti verso questa Madonna gli appuntamenti sono giovedì 5 maggio con la fiaccolata notturna per la pace dalla parrocchia di Santa Maria Goretti al santuario di Tre Ponti alle 20.45 venerdì 6 alle 20.45 il rosario e alle 21.15 la catechesi biblica di Monsignor Ugo Ugi domenica poi ci saranno molte messe a partire dalle ore 7.30 mentre alle 17 la solenne concelebrazione eucaristica preseduta sempre da Monsignor Ugo Ugi a cui segue la processione con l'immagine della Madonna giriamo ancora la pagina e vediamo come si parla dell'ospedale in questo articolo c'è una denuncia da parte dei dipendenti dell'ospedale stesso insomma la libera circolazione all'interno dell'ospedale sarebbe un po' problematica non vengono più osservate tutte le disposizioni che limiterebbero gli eccessi per questioni sanitarie per questioni prudenziali segnalazioni da parte dei dipendenti la sbarra del pronto soccorso è sparita dal tempo criticità anche per la camera mortuaria e a questo si aggiunge che l'entrata ai reparti dove non è presente nessun addetto sarebbe permessa a chiunque insomma c'è un po' una trascuratezza è una situazione trasandata diciamo meglio per quanto riguarda l'ingresso in ospedale invece dovrebbe essere così limitato per questioni di cautela questo è un bilancio da città bloccata e siamo a Pergola il titolo riguarda una presa di posizione del gruppo di opposizione che critica il documento che è stato elaborato dalla giunta è privo di investimenti di rilievo ha dichiarato e scoppiano già le polemiche il bilancio proposto dalla giunta Guidarelli è privo di investimenti di rilievo ed è lo specchio di una città ferma da tre anni e quanto ha dichiarato il gruppo di minoranza pergola nel cuore composto da Antonio Baldelli Marta Oradei e Luca Castratori che nell'ultima seduta del Consiglio Comunale ha votato contro il documento economico e poi ora attacco insomma ci sono delle conseguenze per quanto riguarda invece la proloco di Mondavio vediamo che Silvi Campolucci è stata rinnovata alla presidenza dell'associazione con la sua vice Laura Simoncelli nella riunione di venerdì l'assemblea dei soci ha ribadito la propria fiducia al presidente uscente e Mondavio per quanto riguarda la proloco è un centro molto molto attivo ricordiamo che la rocca di Mondavio è uno dei monumenti più visitati e più importanti della città la pagina di Urbino invece è caratterizzata con la cerimonia del 25 aprile che si è svolta ieri nei pressi nella piazza centrale la celebrazione della liberazione è stata fatta dal vivo dopo due anni di sospensione anche a Urbino emozionante l'esibizione dell'orchestra dei fiati che si è esibita nel collegio Raffaello tutta la città si è ritrovata attorno a questo momento che ricorda appunto la liberazione anche del nostro territorio e poi si parla della Fano Grosseto la Fano Grosseto ogni tanto torna alla ribalta questa volta l'occasione è data da una riunione che è stata convocata per oggi alle ore 12 a Dancona nella sede della regione Marche è stata indetta dall'assessore regionale alle infrastrutture Francesco Baldelli e dal presidente della regione Francesco Acquaroli si preannunciano novità importanti così afferma il giornale e nel frattempo venerdì scorso anche Città di Castello in Umbria ha tenuto una conferenza indetta dalla Lega a cui ha partecipato anche Riccardo Augusto Marchetti Umbro ma anche commissario regionale della Lega Marche quindi insomma c'è questa comunione di interessi ovviamente tra Umbria e Marche per quanto riguarda il completamento ma che almeno si realizzasse l'apertura del traforo della Guinza già sarebbe un successo per movimentare la realizzazione di questa grande grande arteria vediamo ora la pagina di Pesaro del resto del Carlino si parte con il successo ottenuto dall'Adriatica Cup la città invasa da tanti atleti gli hotel vanno a canestro cioè vanno veramente a punto con 8.000 presenze il torneo giovanile di basket ha riempito gli alberghi per tre giorni organizzazione e ponzoni inizio col freno a mano poi tutto a liscio qui vediamo anche delle belle foto che vengono pubblicate per quanto riguarda questo momento di sport ma anche di vacanza vediamo infatti qui alcuni momenti che vengono realizzati all'interno delle palestre tanti ragazzi esultanti e poi qualcuno che sdraiato al sole insomma si prende un momento di relax strada San Nicola sbarrata da 12 anni sarebbe ora di riaprirla ebbene lo dice il consigliere di Fratelli d'Italia Daniele Malandrino che appunto solleva il problema vedete qui la strada chiusa la strada di San Nicola una piccola strada che porta in un luogo molto molto bello alla periferia di Pesaro la frana che l'ha sconvolta non è stata ancora rimossa e uno dei residenti appunto il consigliere Daniele Malandrino protesta riaprire questo passaggio valorizzerebbe ha detto anche i borghi con le passeggiate e le giti in bicicletta si tratta di un percorso di 5-6 chilometri ma molto interessante bello dal punto di vista ambientale ed ora parliamo del teatro Rossini perché ci sono novità che si potrebbero ripercuotere anche nel territorio Rossini i lavori per la ristrutturazione interno della Sala della Repubblica sembra che non finiscano qui è stato negato infatti il certificato di rispondenza degli impianti in quanto i lavori che sono stati eseguiti hanno diciamo così cambiato radicalmente l'assetto originario del teatro stesso e quindi occorre ora un attestato di conformità con le nuove leggi per tutto l'edificio e questo prolunga molto molto l'operazione burocratica tanto che il Rossini non potrà quasi sicuramente ospitare quest'anno né il ROF né il GAD né gli incontri e gli eventi già programmati la prosa dovrebbe continuare allo sperimentale ed è probabile che molti spettacoli possono essere dirottati compreso il ROF addirittura a Fano oppure ad Urbino nulla è stato deciso il teatro potrà tornare ad essere utilizzabile al meglio nel 2023 o comunque per il 2024 quindi c'è molto ancora da attendere per la ripristino del teatro Rossini di Pesaro e chissà che Fano oppure Urbino non possa ospitare delle opere liriche che insomma di carattere di levatura internazionale come si organizzano al ROF e Pesaro per il 25 aprile l'Ucraina rianima la cerimonia del 25 aprile Ricci se attaccavano qui cosa avremmo fatto una riflessione importante il sindaco di Pesaro pone la domanda se avessero invaso l'Italia pensate che avremmo alzato bandiera bianca o avremmo resistito così come sta facendo la popolazione ucraina ebbene è un dilemma questo al quale ognuno di noi al suo interno nel suo animo può dare una risposta positiva o negativa e poi il giornale parla del concorso dei vigili è un concorso che è partito con 138 candidati è arrivato a 15 se ne scelgono soltanto 5 per quanto riguarda gli agenti di polizia locale dell'unione pian del bruscolo ecco i nomi di chi ha vinto adesso non ve li sto a leggere comunque sono pubblicati sul resto del Carlino e poi un episodio di cronaca li filma col cellulare picchiato e rapinato e aggressione in piena notte in via Safi la vittima ha alcune costole fratturate la banda è fuggita dopo avergli preso il telefonino insomma ha avuto dei guai veramente questa persona apriamo anche il Corriere Adriatico sulla pagina di Fano e vediamo come l'apertura è dedicata ad una ad una ricerca che ha fatto padre Giancarlo Mandolini padre Giancarlo Mandolini è il priore del convento dei frati minori conventuali di Santa Maria Nuova è il luogo dove è stato ritrovato il corpo del beato Antonio da Fano beato tra virgolette perché poi si è scoperto che non era beato ma soltanto un personaggio di riguardo visse nel XV secolo ed era stato confessore del re di Aragona del re d'Aragona e poi anche ambasciatore del Papa insomma aveva ricoperto degli incarichi di grande grande prestigio dal terremoto alla pandemia come è cambiato il convento padre Mandolini ha scritto un libro in questi ultimi anni quando la chiesa di Santa Maria Nuova ha avuto dei sostanziali cambiamenti prima i danni del terremoto del 2016 che sono stati riparati dopo una lunga chiusura della chiesa stessa poi l'avvento della pandemia e poi la ristrutturazione del convento che è stato venduto trasformato in appartamenti di civile abitazione e proprio nel corso di questi lavori è stato trovato appunto il corpo del cosiddetto beato Antonio D'Affan un corpo che è stato trasferito poi nel convento di Valle erimita a Fabriano e nel frattempo è stato fatto oggetto di tanti esami di carattere anatomico da parte di un'equipe specializzata la cui professionalità deriva dall'Università di Pisa da cui proveniva anche quel professor Fornaciari che aveva fatto l'esame della mummia di Pandolfo III insomma la testa poi anche quella del beato Sante Brancorsini di di Monbaroccio e proprio in questo articolo vediamo come i risultati di questa analisi ci dicono molto di quello che è stato il beato Antonio ovvero la sua corporatura il suo aspetto fisico le malattie di cui ha sofferto che vita ha condotto di cosa si nutriva insomma delle notizie interessanti ma notizie interessanti anche della chiesa di Santa Maria Nuova che negli anni 50 fu oggetto di profonde ristrutturazioni e furono trovate anche 26 sepolture sotto il pavimento della chiesa stessa insomma un libro che purtroppo è fuori commercio ma che è stato scritto con grande professionalità con grande competenza da padre Mandolini che può costituire una base importante per quello che abbiamo vissuto in questi ultimi anni appunto dal terremoto alla pandemia altro articolo riguarda una delibera che verrà approvata nella prossima seduta del Consiglio Comunale di Fano in programma giovedì prossimo si tratta del secondo tratto della ciclovia adriatica che dovrebbe raggiungere torrette da Ponte Sasso un nuovo tratto in consiglio previsti anche parcheggi per le bici tutti gli aspetti tecnici di questa delibera e soprattutto come l'amministrazione comunale risponderà alle richieste dei residenti che avevano messo così che avevano sollevato il problema dell'esposizione del tracciato alla furia degli elementi perché troppo vicina alla spiaggia e senza alcuna protezione per quanto riguarda le marreggiate le burrasche insomma che potrebbero poi creare danni alla nuova infrastruttura terre roveresche il sindaco Sebastianelli è anche comandante della polizia locale questo non va bene al gruppo di minoranza il gruppo di minoranza noi siamo terre roveresche che prende posizioni in maniera forte contro la decisione appunto del sindaco di essersi autonominato nuovo comandante della polizia locale insomma questa cosa non va bene e qui ci sono le proteste per quanto riguarda la Val Cesano vediamo un episodio di cronaca a Pergola nei guai il sessantenne di cui abbiamo già parlato in centro con il manganello e coltello ha reagito ai carabinieri e poi la pagina di Senigallia lungomare spazzato dal vento in ritardo il lifting della spiaggia il maltempo ha complicato le operazioni di livellamento gli operatori temono un aumento delle spese insomma anche Senigallia prepara la sua spiaggia di velluto per quanto riguarda tutto ciò che di problematico ha causato la stagione invernale e poi vediamo come a Corinaldo si è verificata una vera e propria carambola di cicloturisti era un plotone di cicloamatori costituito da molti da molti da molti ciclisti ebbene in cinque si sono urtati il più grave è un settantaduenne una ventina di appassionati pedalavano in gruppo appunto in cinque cadono due feriti all'ospedale insomma un incidente che ha causato anche l'arrivo della eliambulanza come vedete in questa fotografia sulla pagina di Pesaro il Corriere Adriatico posta la sua attenzione invece sulle antenne del 5G dopo quella di Montegranaro e quella di Soria che vengono contestate dai residenti vediamo che ci sono anche altre dodici richieste che sono state presentate dalle società di gestione di questo servizio le ultime richieste di installazioni sono arrivate al comune pervengono dalle compagnie Iliade Wind le richieste sono state presentate tra il 2019 e il 2020 per Wind si dovrebbe realizzare un'antenna nel cimitero nei pressi del cimitero nell'area a parcheggio di San Decenzio per Iliade invece sono più di una le antenne richieste in via degli Abeti in via Mirabelli in via Trometta addirittura due siti in via Cherubini in via Fratti altri due siti nella strada comunale Roncaglia Vecchia in piazza della Libertà in via del Burano e in via Liguria e ovviamente i residenti non stanno tranquilli in merito a queste mega antenne che dovrebbero poi e così emettere delle onde elettromagnetiche che temono appunto i residenti essere pericolosi strada chiusa da 12 anni nel PNR fondi ad hoc anche il Corriere Adriatico parla della chiusura della strada di San Nicola via San Nicola potrebbe essere il collegamento con Candelara novilare trebbi antico ma riservato a pedoni e ciclisti malandrino la soluzione delle infrastrutture leggere insomma langue ancora 200 mila euro invece per portare avanti la bonifica dell'AMGA una bonifica che va insomma a tempi biblici perché è veramente da tanto tempo che questo intervento è in atto i fondi sono stati individuati nell'ultimo avanzo di bilancio il tutto ha superato i 3 milioni di costi l'assessore Morotti in questo articolo fa il punto adesso inizia la fase della piantumazione il Corriere Adriatico sulla manifestazione del 25 aprile noi difendiamo la democrazia è stata una dichiarazione del sindaco Ricci che ha dedicato la festa della liberazione all'Ucraina invasa ieri grande partecipazione alla manifestazione e poi un articolo di cronaca lei visita siti pedopornografici paghi l'assenzione attenzione non è una una notizia di cronaca sic sempliciter ma è un avvertimento perché si tratta di una truffa è un raggiro arriva una lettera che manda in panico le persone facendo credere a loro di aver trovato materiale pedopornografico nei loro computer il testo che è fasullo arriva addirittura dalla polizia postale ovviamente è un falso omittente ma diversi pesaresi ci sono cascati tanto che l'avvocato Matteo Mattioli ha risposto a diverse chiamate sia domenica che ieri festa della liberazione ebbene dicono di aver trovato dei filmini hard nelle computer delle persone e se non paga la sanzione potrebbero finire veramente nei guai a parte appunto il fatto di essere così svergognati di fronte alla città in realtà questi filmini hard non ci sono ma la gente ha paura per quello che accade e forse qualcuno avrebbe potuto pagare ecco perché state attenti nessuna forza di polizia contatta mai direttamente i cittadini attraverso e-mail ventilando sanzioni da pagare quindi sono truffe attenzione in Vallefoglia vediamo che si parla del digestore documenti ancora carenti mancano piano odori e dati acustici e anche questa è una telenovela ma noi qui ci fermiamo perché abbiamo esaurito il nostro tempo a disposizione e vi do appuntamento alle 7 di domani questa sera alle ore 20.30 con Simona Zonghetti occhio alla notizia su Fano TV a risentirci grazie per l'ascolto